Ciao a tutti ragazzi di Twitch YouTube Streamers Italia In questo video vi vado a spiegare come aggiungere veramente il banner che bisogna inserire per essere aggiunti appunto al bot Perché molti di voi sto notando che praticamente non lo sanno fare ma è la cosa più easy che possa esistere su Twitch Questo probabilmente perché alcuni di voi hanno iniziato comunque a streamare da pochissimo Allora da pc perché da quel caso si può fare solo da pc non ho provato da un dispositivo mobile magari da web se è possibile farlo Quindi cosa fate? Andate sul vostro canale qui così Non appena vi si caricherà la pagina dovrete scendere in basso il canale appunto dove appaiono le info che voi andate ad inserire Che sia le regole comunque donazioni o qualsiasi altra cosa voi vogliate inserire nel vostro canale Ecco qui sta Twitch YouTube Streamers Italia con descrizione e link cliccabile Una volta cliccato ci porta direttamente l'invito appunto ad unirsi al nostro server Discord Ora per inserirlo come si fa? Facilissimo Modificare i quadri Bisogna inserire qui e andare su Adesso questi sono quelli che ho inserito io Premere qui dove vi si spunterà questo Aggiungi un riquadro di testo o immagine Semplicemente basta mettere il titolo ma in questo caso non c'è bisogno Quindi aggiungete l'immagine quindi il banner che andate a scaricare sulla sessione regolamento Immagine è collegata a quindi va messo il link E poi fate il copy and call Nella descrizione e lo mettete qui Basta cliccare invia Una volta fatto Non appena qui finisce di caricare Basta andare qua E il gioco è fatto Vi spunterà tutto qui Davvero davvero easy Capisco che molti di voi comunque lo sanno fare Però magari nuovi streamers non riescono Ed effettivamente ogni volta mi capita di doverlo andare a spiegare sempre Quindi adesso ho fatto questo brevissimo video tutorial Davvero davvero easy E mi raccomando Aggiungete il banner appunto che ci serve per cercare di portare Di attirare più gente che non sia solo streamers ma anche spettatori Sul nostro server discord Così che possiamo comunque aiutarci tutti a vicenda Bene ragazzoli con questo è tutto E alla prossima Ciao